Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti al canale, io sono Magnus Ritorniamo sempre qui su Blower Stral Alla grande, soprattutto perché Da quel poco che ho capito Che sì, ci sono tutta una serie di tecniche da imparare Ma fondamentalmente se i Blower non sono di un livello, diciamo, accettabile È normale che non si combatte abbastanza bene Naturalmente come se vi invito, come se mi mette un po' più su Un bel commento, un bel mi piace Da quello che potete vedere Ho caricato ben 2000 gemme E sapete benissimo, meglio di me Quanto costano 2000 gemme? 109 euro, se non ricordo male E quindi oggi proveremo a cercare qualche Blower Vi faccio vedere Ne ho parecchi 11 su 22, diciamo la metà Però quello leggendario ancora non lo abbiamo beccato Tra l'altro poi, da quello che ho capito Dalle casse, ce ne sono alcuni leggendari che sono una figata pazzesca Ma da quello che ho capito È che in pratica se becchiamo subito un leggendario In teoria poi alle altre casse non ci dovrebbero uscire quelli là buoni Mi farebbe molto piacere beccare questo Anche se non è praticamente un leggendario È un epico Però mi incuriosiva parecchio poterla utilizzare Le casse ce le abbiamo Mi mandano alcuni inviti Vabbè, questo poi magari lo guardiamo in un secondo momento Allora, ce ne andiamo Ah, un'altra cosa fondamentale Mi avete dato un sacco di dritte Soprattutto per Mortis Perché è vero Si utilizza sicuramente meglio Se invece di direzionare Proviamo sempre ad attaccare Infatti ringrazio Loff Che mi ha mandato un video O come poterlo utilizzare Soprattutto per quel tipo di gioco Che non mi ricordo come si chiama Quell'evento Con la del tipo calcio Dove si segna E là mi è utilizzato veramente tanto bene Vabbè Non mi voglio perdere in 30 mira Il piacchiere Andiamo subito nel negozio Qua ci sono alcuni che No, non ci sta nessuna offerta particolare Vabbè, quello gratuito ce lo becchiamo subito Visto che sta qua gratuito 70 di monete Che non è male Sto bull in continuazione Che tra l'altro Beryl non è male Però non è sicuramente Uno dei miei preferiti Biglietti degli eventi Vabbè Quindi poi naturalmente Ci guardiamo un po' più tardi Anche perché Ancora non abbiamo Secondo me raggiunto Il livello giusto Quindi Ce ne andiamo nel negozio Abbiamo sicuramente La prima mega cassa Ce ne andiamo a vedere E vediamo se siamo fortunati Vabbè Le monete si sa Ok Bombardino è forte Quindi sono Poco contento Però vabbè è forte Magari avrei preferito Anche Popo ce l'utilizzo tantissimo È fortissimo Infatti se riusciamo a potenziarlo Va bene Stecca Non mi fa impazzire Neanche un pochetto Penny Mi piace Ok Questa è una cosa buona Perché vuol dire Che lo possiamo far salire Di livello Beryl Anche ora Vabbè Non fa niente E biglietti Degli renti Vabbè 11 gemme Ah ci dai anche 11 gemme Questa non ho saputo Che ci davano anche le gemme Vabbè comunque La prima cassa è andata Direi Abbastanza Bene Mi sarei aspettato Magari Un altro Bro Ma non c'è uscito Apriamo anche la seconda E vediamo come ci dice Vabbè Le monete Lo sappiamo Escono sempre Colt Caldo a Colt Secondo me Punto di energia per Colt Forse se lo si potenzia bene Si può andare bene Pocho Ok Quindi A livello successivo Lo abbiamo portato Perché poi dobbiamo Naturalmente spendere i soldi Vabbè Non fa niente Nita Nita Non lo so Perché secondo me Su alcune cose Può essere abbastanza buona Però Oh bro Niente È il primo Ditemi quello che vuoi Ma non mi piace Lo dobbiamo far salire Ma veramente niente Vabbè Continuiamo ad andare Abbastanza malino Qua dovrebbe essere Gemme No Addirittura Biglietti Eventi E per due Bro Per due Gettoni Ok Ah qui non escono Sempre Le gemme Abbiamo avuto anche Culo quindi Che ci sono uscite le gemme Vabbè Non fa niente Volevo soltanto Però vedere Una cosa Prima di Se andiamo qui Vorrei Vedere Un attimo Se riusciamo Eccolo qua Ok Visto Vabbè Non male A questo punto Ci potenziamo Anche Penny Penny È ancora Un pochettino Scarsina Secondo me Non è ancora A grandi Livelli Però È forte È forte È forte È forte Vabbè Andiamo avanti Vediamo Se riusciamo a beccare Sto cavolo Che poi In teoria A questo punto Visto che a fine mon Non ci è uscito Neanche una Vuol dire Che la fortuna Dovrebbe aumentare Qua pare che aumenta La sfortuna Vabbè Monete Lo sappiamo Nathan Ancora Ce la vogliono Ancora dare Bull Non mi piace Anche se ho visto Che viene molto utilizzato È il primo Mi sa che forse È meglio che non lo dico Che non mi piace Perché magari Anche se forse avete detto Che facendolo salire Parecchio di livello Dovrebbe essere Abbastanza forte Shelly Shelly è uno dei primi Non è un granché Penny Vabbè Dai Nuovo livello Anche per Penny Quindi Punti energia Biglietti Gemme No Ancora Il doppiatore di gettoni Va bene 5 gemme Si sono sprecati Va bene Sempre meglio Di niente Ok Diciamo che per adesso Non è che ci dice Veramente tanto bene Apriamo quest'altra Mega Cassa E vediamo Dai però Un altro ci potrebbe usci Un niente Ne abbiamo beccato Un niente Zero Pocio 12 poi Mamma mia Poi la miseria Tut totale Bombardino Ok Quindi bombardino Anche siamo riusciti A farlo salire Che non è sicuramente Stecca Stecca Secondo me Non è niente di che È il primo Mamma mia Cioè dalla prima cassa Poi sono usciti tutti quanti Con il primo E Penny Oh sto Penny Ne stiamo beccando Tarecchi È un punto Per gli eventi E vabbè Niente di che Vediamo un pochettino Una cosa Perché a questo punto Possiamo sicuramente Bombardino Lo potenziamo Perché secondo me Bombardino è forte Non lo sottovalutate Non lo sottovalutate Perché comunque Riesce comunque A colpire Anche a debita distanza È il primo Non lo so Non lo voglio potenziare Perché non mi piace Mentre invece Penny Ce l'andiamo sicuramente A potenziare Ben due volte Lo posso potenziare E sì Perché abbiamo Beccato un sacco Di punti Energia Di Penny È grande Penny Ci ha fatto spendere Un sacco Di soldi Vabbè E non fa niente Comunque Questa è una cosa Importante Direi di andare Avanti E vedere se riusciamo A becchiare Almeno Di qualmeno Un bravo E dai E dai Non dovrebbe uscire Tipo una cosa particolare O sbaglio No Niente Continuiamo sempre con Colt Che poi tra parenti Se avete visto Bombardino Anche ora lo facciamo salire In Calibre Stiamo potenzando Perché tutti Shell no Shell no Shell no Penny Praticamente Penny Se non sbaglio A parte la prima volta Poi c'è uscito Completamente Sempre Abbiamo anche Stecche Quindi in pratica Più non ci piace Il bravo E più ce le fa uscire E forse così Ma Mi viene praticamente Un dubbio Se proviamo Ad aprirci Una cassa Questa qui Voglio capire Ma qua dentro Che ci esce Scusate Ci sono tre estrazioni Una appare Con le seguenti Volevo capitarmi Una No Vabbè No Magari Ecco Pensavo Che magari Potevano uscire Più Se ci aprissimo Una cassa enorme Voglio vedere Se con la cassa enorme Magari siamo più Fortunati E poi magari Vediamo Perché strano Sto fatto Manco uno Ce n'è uscito 42 Niente Colt Si è fissato Con Colt Va bene Penny Si è fissato Con Penny Però vabbè Almeno con Penny Sono contento Perché mi fa piacere Shelly Va bene Ma quindi in pratica È la stessa cosa Se ci escono Meno cose Tre gemme Wow Fantastico Tre gemme Mi fanno praticamente Impazzire Niente di che Voglio vedere Un attimo Se Abbiamo Praticamente No Ancora non sono riuscito A far salire Più di Tand Eppure io una partirella Me la vorrei fare Con Non ci è fatto uscire Neanche un bravo Sei di una Fetente In un'umanità esagerata Non c'è neanche un'offerta Per poterlo beccare Vabbè Apriamoci L'apro con la sinistra Magari ci porta meglio Vediamo se va meglio così Abbiamo le monete E quelle non ci mancano mai Stecca Stecca continua Beryl Non mancare La connessione Perché Ci dovrebbe essere Forse se manca la connessione Ci fai uscire Si Ci fai uscire Una mazza Vabbè Ok Punti energia Bombardino Bombardino Niente Non è riuscito a potenziare Ok Che oltre Bombardino Abbiamo fatto salire tantissimo Biglietti E lenti Ok E tre gemme Praticamente ci sono uscite Le stesse tre gemme Nella cassa Cioè ci escono praticamente Più gemme Che gemme All'altra parte Porca la paletta Vabbè Non scherziamo con il wifi Cioè c'è il wifi A 20 centimetri Vabbè Dice che non lo prende Vabbè Mega cassa Comunque la sinistra Ha portato male Forse la portava meglio La destra Niente Però più monete Dell'altra volta Sempre bull È il primo Speriamo che sia l'ultima volta Che ci esci Penny Vabbè Almeno però Penny ci esce E quindi almeno facciamo Mortis Ah Ok Mortis mi fa piacere Perché Lo volevo un pochettino utilizzare Me l'avevo quasi scordato Ora niente Poi ciò mi fa piacere Che ce lo fai potenziare Perché è uno che utilizzo parecchio Sempre biglietti 3 gemme 8 gemme Stavolta si è sprecato 8 gemme Vabbè Mi fa piacere Che comunque Di Browel Nuovi Non se ne vedono proprio Manco mezzo Manco uno Vabbè Noi insistiamo E vediamo Se riusciamo Momento Questo secondo me Vuol dire che esce il Browel Dovrebbe uscire Ho sbaglio Mi pare che quando esce Sta cosa Esce Ma non vorrei dire Pocho Ok Siamo contenti Anche se Penny Me ne servirebbero Molti di più Ma non fa niente Energia Per Colt Che non mi piace Penny Me lo sta facendo Potenziare tantissimo E tra un po' Lo portiamo a livello massimo Niente Quindi adesso Dovrebbe uscire E si che esce Stanno leggendo Oh Piper Piper Se non ricordo male Non dovrebbe essere male Se non ricordo male Non dovrebbe essere male Era forte Se non sbaglio Dopo ci mandiamo Un attimo A vedere Ah quindi Questa è una buona cassa Certo Mi sarei aspettato Qualcosina Di meglio Però Wait Momento 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 Allora La prima cosa Facciamo così Ci potenziamo Mortis Si Se poi Mortis ce la potenziamo Lo volevo anche utilizzare Allora Che è uscita E' uscita Quindi non è che stiamo stati Ancora fortunati Quindi Mo Ci dovrebbe uscire Una cassa brutta Ho già capito Ho già capito Che quindi Quando si apre Esce la cosa Non esce Non esce Che il bravo Non esce Ok Che ne devi aver capito Mortis Ah va bene Ok mi fa piacere Magari se ci fai salire Anche Piper La possiamo utilizzare Anche un pochettino Meglio E sarei contento Pocio Ok Stecca Che palle Stecca Stecca è quella Se non ricordo Ma che mira Molto da lontano Però il resto E' scadente Secondo me Biglietti per due Ok E basta Ok Vedete Già qua si capisce Che in pratica Siamo stati fortunati In la prima cassa Adesso invece In questa cassa qua Niente Due biglietti Di schifo E gemme zero Proprio alla misera Però più soldi Questo già potrebbe essere Una cosa buona Dai Vediamo se siamo fortunati Ok Questo già denota bene Perfetto Allora non vale Sta cosa Forse perché la cassa Di mia faceva schifo Allora 276 Dimmi che esce La real generata Così esultiamo Allora Beryl Che due palle Però Beryl Da vicino E' molto forte Quindi attenzione Mortis Va bene Ne avrei preferito Qualcuno in più Perché così Volevamo farlo Sare ad alto livello E' il primo Niente Non mi hai ascoltato Bull Ok Vediamo chi ci esce Stecca Dovrebbe uscire No Ah E' una fregatura Praticamente Non è che esce Quando esce La vignetta iniziale Esce sempre Il bravel E allora C'è preso Quindi praticamente Mi hai fatto esultare Per otto biglietti Di Vabbè Lasciamo perdere Allora Non ci gasiamo Più di tanto Quindi non è che Se esce la cosa iniziale Vuol dire che esce Sicuramente Vediamo un po' Se siamo più fortunati Adesso è uscito Un'altra volta Quindi in teoria Non voglio neanche Già esultare Perché Vi dico la verità Stavo esultando Prima E invece Niente Vabbè E' il primo Fa niente Bull Fa niente Ok Anche se Bull Ve l'ho detto Molti lo utilizzano Non so se Perché è forte O perché è grosso O perché esce subito All'inizio E ve lo danno Come il pane Poi abbiamo Penny Vai Penny Che tanto penso Che sarà Una delle mie preferite Visto che Potenzio tantissimo Ok Mamma mia Scelli proprio Arraffica Questo vi fa capire Tante cose Biglietti degli eventi Uno E raddoppiatore Di gettoni Vabbè Cioè praticamente Non abbiamo beccato Niente Soltanto uno Per adesso E' veramente Veramente Molto poco Direi Aspettate un attimo Vedete Se posso far salire Un'altra No niente Non possiamo far salire Solamente questo qua Al massimo no Penny La possiamo far salire Ok Penny Sono molto curioso Di vedere Come Come Gioca Vi dico La verità Quindi Facciamo una cosa Io Una partitella Con Penny Me la andrei A fare Che è quella Che praticamente Sono riuscito A far salire Più Di tutti C'è qualcuno Che mi sta scrivendo Praticamente In battaglia Non so sinceramente Se qualcuno di voi Vabbè Tanto sicuramente Non lo scrivere sotto Nei commenti Facciamola Perché Se non le compagnie Dovremmo poterla utilizzare Abbastanza Bene In questo modo E vediamo Se veramente È forte Oppure È scadente Oppure No Allora Tra l'altro Vi ricordo che Miro abbastanza lontano Ma poi Dovrebbe riuscire Anche a fare Una grande cosa Adesso Vediamo un po' Voi dite Ma tu giochi Un po' Troppo indietro Lo so Ma In pratica È il gioco Che devi chiedere Di stare Sulla difesa Perché se non riuscite A stare Sulla difesa Eccolo qua Mettiamolo qua E andiamo Perché così Dovremmo andare Abbastanza bene Pensione a questo Pensione a questo Pensione a mano Eccolo qua Aia Il problema di Penny Sapete qual è È che se giocate Con qualcuno Ok è forte Ma se giocate solo Non riuscite a fare Praticamente niente Eccolo qua Avete visto Ok il cane Noi l'abbiamo messo Quindi Una cosa buona Volevo beccarla Vai dai dai Però il problema È che questi Non vanno Raga I miei amici Non vanno avanti Oh bel danno Bel danno Bel danno Vai vai Che stiamo colpendo Vai Lo metto anche Un pochettino Più avanti Di qua Aspetta Dai che è buona Dai che è buona Ancora perché Alla fine E va arriva Ah è pure morto Dai che forse Riusciamo a recuperare Che sta là Dai 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 Speriamo che non sia Ecco appunto Speriamo che non era Non riesco a beccarlo Niente Dai 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 Questo dovrebbe beccarlo Ok Vediamo se riusciamo A beccarlo Dai dai Mi sera Questo non muore Niente Non muore Non muore Troppo vicino Troppo vicino Il problema è sempre lo stesso Penn c'ha limite Praticamente Infatti in questa mappa qua Essendo pochissimo coperto Non riusciamo praticamente A fare niente Infatti si sono arretati tutti quanti Lo lo dico Manca poco Se non andiamo avanti Non possiamo far più niente Se non andiamo avanti Non facciamo niente Penn è forte Però c'è bisogno sempre Di qualcuno davanti Che vi dà una mano Se no Perdete praticamente Parecchi colpi Ammazza Mamma mia Quanti me ne ha tolte No Aspetta un attimo Perché dobbiamo giocare Io direi A questo punto Ci andiamo Ad aprire Un'ultima Cassa Da 80 Sempre E vediamo se siamo fortunati Ormai ho capito Che in pratica Non è che se esce La cosa iniziale Dovrebbe uscire Il Browell Vabbè Ok Con Beryl Pocho Pocho pure è forte Mi fa piacere Che lo stiamo potenziali Infatti lo portiamo A livello successivo Colt Non mi piace Ma neanche un poco Mortis E grazie Uh Livello successivo Mortis Fantastico Penni Però ce ne sta andando Un po' troppo di Penni Eh Niente La fa Niente Niente Vabbè Ci dice male Ne abbiamo praticamente Più di mille Ancora da spendere Ne vede un video Paramente a penso Troppo lungo Se vi fa piacere Naturalmente Scrivetelo sotto Nei commenti Magari Apriamo O meglio Apro insieme a voi Anche le altre gemme Per vedere se riusciamo A beccare Qualc'altro personaggio Naturalmente Come passate un video Con questo E metto un like Su Per commento Un bel mi piace Ci vediamo Nel prossimo video Bye Ciao Ciao!